no mo già chiama sandra ma tu non hai capito quattro io mi appiccicai cucchiai 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 da parente come si chiama? loris allora quando è stato gioco e a sera il papà non soffidavo e io sai un momentetto sotto quando hai la tenda, non hai un cassettone non c'è chiama il figlio quattro è? metterlo sotto e guarda loro papà che facette ricetta? io no sai che ha già fatto? non faccio bagnare franca perché è così? io non ho capito io non c'è chiama il figlio... ma ciao io la faccio io la faccio io la faccio io la faccio tu non ci sono io la faccio io la faccio io la faccio